Una cinquina alla Magic Krati ed il terzo posto in classifica a quota 13 punti. E' particolarmente felice il primo sabato di novembre per il CLN Kus Morise, che esce alla distanza contro la formazione silana, sfruttando la maggiore profondità delle proprie rotazioni. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, è De Betio a portare in vantaggio i suoi ad inizio ripresa. Si entra poi nella zona barrichello, con il capocannoniere a 12 reti del girone, che mette a segno una doppietta, portando i suoi sul 3-0. Ciocci e quindi Ferrante blindano il risultato sul 5-0, facendo partire un prolungato garbage time, col possibile clean sheet macchiato unicamente da un tiro libero di Scigliano a 2 minuti e 46 secondi effettivi dal suono della sirena. Ora, per il quintetto di San Gennario, si apre un periodo pugliese, con la trasferta di Cassano delle Mulge in casa dell'Atletico Cassano, il match interno con il Barletta ed il confronto sul campo del Virtus Rutigliano nei prossimi tre turni. Grazie a tutti.